ciao a tutti ragazzi come va come sempre che agonista spero tutto bene sia in game che real life questo è un video per presentare un po il canale a chi non lo conosce e per annunciare delle news molto importanti che voglio portare sul canale come sapete io ho creato il canale per cercare di riunire la community di pokémon go e anche di ride shadow legenda anche se al momento non sto portando video su questo gioco spero di portarne successivamente ma mi sto concentrando di più su pokémon di competitivo quindi chi si interessa le lotte di pokémon go nel pvp e appunto vuole parlarne vuole mostrare il suo team e così via appunto mi presento velocemente sono un ragazzo come voi al cui piace giocare videogiochi gioco soprattutto ai due che ho citato precedentemente e vorrei creare delle community soprattutto per quanto riguarda pokémon go dato che il competitivo sta prendendo sempre più spazio all'interno di questo gioco per fare ciò ho creato un account instagram nel quale metterò le info migliori per questo gioco per cercare di aiutarvi e metterò quello che mi accade inoltre metterò foto magari di miei familiari soprattutto di mia nonna che è la queen dei pokémon foto con lei con dei pokémon che vi faranno ridere quindi seguitemi su instagram se vi va e inoltre abbiamo creato con degli amici ho creato un gruppo telegram che servirà appunto per riunire le persone che vogliono parlare delle lotte go mostrare il proprio team mostrare come giocano le strategie oppure flexare degli sciani organizzare dei ride detto questo appunto vado subito a spiegare come funziona il gruppo intanto il gruppo sarà aperto cercando agonisti pokémon go lo troverete su telegram oppure qui lascerò il link di invito in descrizione una volta acceduti al gruppo vi chiedo per favore di registrarvi ad un bot che si chiama detective pikachu farla molto semplice basta scrivere nel gruppo start slash start o slash register e il detective pikachu vi risponderà iniziate una chat privata con lui e per registrarvi sarà sarà tutto velocissimo scrivete di nuovo slash register nella chat privata lui vi chiederà il vostro nome di gioco una volta inserito vi dirà grande continuiamo mandami uno screenshot del tuo avatar con come compagno un pidova un cricetot rinominato come pepe ricordatevi di rinominare il vostro pokémon compagno una volta fatto ciò lui vi dirà in che team siete il vostro livello se volete modificare ogni tot vi basterà rimandare uno screenshot del vostro avatar quando avete cambiato livello io vi consiglio anche di mettere il vostro codice amicizia al bot così che se lo segni vi lascio il mio qui aggiungetemi ragazzi mi raccomando anche in descrizione così che diventiamo amici cerchiamo di scambiarci pacchi aumentare di livello una volta fatto ciò potrete creare i raid all'interno del gruppo in modo molto semplice basterà mandare lo screenshot dell'uovo o del pokémon del quale c'è il raid nel momento nella palestra e il bot farà il resto perché vi dirà che c'è un raid in questo orario e voi basterà che premiate su organizza raid e lui vi chiederà in che orario volete far partire il raid e cioè in che orario sarete lì per far partire il raid una volta messo l'orario chiederà anche agli altri giocatori se sono presenti allora basta rispondere ok se ci sono il più una è per ok porterà un amico oppure no non ci sono se permette ok potete mettere sono lì presente che ha quelli con la v verde ci sono ma sono da remoto e quindi appunto potete mettere l'opzione di invitar di essere invitati poi toccherà appunto al giocatore che ha creato raid invitare le persone per vincere il raid spero che sia stato tutto chiaro questo video avuto un po di tagli perché mi sono perso per cercare di spiegarmi al meglio vi chiedo sempre di commentare e di lasciare un like per portare video a più gente possibile stiamo continuando a crescere con la community ci vediamo presto a nuovi video di lotte go ciao a tutti bella lì